Papini ancora a destra in difesa, lunghi nella linea dei tre quartisti, Mazzogli a fianco di Mugelli in mediana. Queste le scelte di mister Iacobelli per la gara di San Mauro Pascoli, ennesimo crocevia per i playoff per la San Giovannese. Un centinaio abbondante di supporters al seguito per proseguire proprio questo sogno. Prima nota è San Maurese in vantaggio, punizione di Santoni, torre di Lucchese, sottomisura Iogan è più veloce di tutti e segna l'1-0. Proteste per un possibile fallo di mano, il direttore di gara però assegna la rete. Prima reazione azzurra con lunghi al termine di una pregevole azione corale, conclusione però oltre la traversa. Torna a farsi vedere la compagine di casa, diagonale rasoterra di Bonandi messo in corner da Scarpelli. Finale di frazione, ghiotta possibilità per il raddoppio non concretizzata, tacco di Bonandi che libera Lucchese, Scarpelli respinge la prima intenzione, irrompe con lei e calcia altissimo. Nella ripresa il pareggio della San Giovannese nasce dal solito asse Nannini di Santo, cross del terzino e rovesciata del numero 10, che emula Cristiano Ronaldo in Champions e supera Passaniti per l'1-1. Le squadre si allungano in modo importante, nota successiva riguarda ancora la San Giovannese, centra Cerneso per Chechi in cornata centrale. Galoppata poi, instoppabile di Nannini, quasi un cost-to-cost, conclusione fermata dal muro mano in area San Maurese. Ecco però il recupero, minuto 48, palla ferma di Chechi in area, torre di Jukic, sottomisura irrompe regoli con un colpo da calcio a 5 a gonfiare ancora la rete. 2-1 e finisce così, con la festa sotto la curva occupata dai tifosi che davvero loro meritano la categoria superiore. Sottomisura Sottomisura